I componenti della Commissione di Garanzia sono stati ricevuti a Palazzo Lascaris il 16 gennaio dal Presidente del Consiglio regionale. La Commissione di Garanzia esprime pareri sui conflitti di attribuzione tra organi della Regione o tra Regione e denti locali, sul carattere invasivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi statali e sulla coerenza statutaria di progetti di legge e regolamenti.